eccoci ragazzi è una partita lol per qualche motivo abbiamo preso tutti un top lane quindi siamo tutti top come vedete vedete siamo tutti su non so perchè ma per una volta non abbiamo trovato non abbiamo non abbiamo trovato dei tipo rompicoglioni la serie no 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 in cui te fidi no 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 invece hanno tutte collaborato all top all pro oh shit con precision a flash evild rinda merda min 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 nooo oltre pacchi noob come non hai lo studio la prontezza di riflessi se si sa doveva venire fuori un po troppo danno da questi personaggi per una vera si incressibile si è stata incredibile e impossibile Dri Sучitoli Tempo a parlare è sempre che devi giocare di dire le lingue investire il il Ho usato solo Ghost e poi hai�� tolo a Q O qua non ha delle wardrobe Rodbia not력i non possiamo perdere oh ok dove sono la torre, guarda di quanto sono forti 2 xxx eh ma di scato è mandato di gold 2 torri già, damma torre e red first blood tra l'altro o c'è trundle donna io non ho riuscito la trundle lak assad li riuscissimo Oh, ciao! Ionia shall not fall riprendermi no cosa mi prendo machine non posso prendermela cavolo posso prendermi vacca merda scarpe e basta e due ward per tankare le torre non 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 Cosa? Sono tipo un po' più di livelli di noi Non tanti Ci sono tre Ci sono due Questi due sono tre per esempio Questi altri Oh, Viva Ho la torre, scusate No, Viva Scusate Scusate Giù fuorguando, non è che se lo dovrebbe funzionare questa cosa Guarda difendere su No, no, Tommy, no, no, non serve Back e mid Proviamo subito No No Non dovevo prendere questa persona, dovevo prendere il ticket cominciato a rirelli Forse perché non hai relli Oh, cari Shhh No Siamo Ma io ci sono, sto arrivando Se volate con il blu a te Volate con il blu Al 6 E' vissuto quel mare, a peristocco E' tutti i shot, tutti con i minuti Oh, no, no, il pilastro no Non ce l'ha Con prezzizio. La mia vita è stata un'esplosione. La mia vita è stata un'esplosione. Perciò a l'esplosione. ahahah ahahah ti rende ahahah e ti tocca a te tu tu credi che sia questa battaglia sarà vinto no uuuu uuuu lo sta facendo mi sto scoprando? matto matto uuuu uuuu che culo uuuu 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 non so che gli temi prendere quando gli temi a caso scarpettore non cambia particolarmente trundle al 7 sennò overlivellando laika boss nOO ecco una sfida e adesso ahahahahaha be siiii ha buttato aspetta non è che mi prende no si anche al spent in goal Eeeh! Piazza, eh? Eeeh! Cosa? No, Z Tarik! Stupro Tarik! Sì, sì, Z Tarik! Che gli schifo! Capito hard! Oh! Enemy double kill! Capito? Jus! Oh, arti- Z HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHUHH Oh I stand resolute I will not fault you 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 Best of Kwon game in the game Cool little skeptic Oh It ends here Oh 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 This battle will be one Beh Vi ha fatto una torre Siamo 4-12 Infatti del mea candare che ho visto partite peggiori di questo Eeeh Non so se Se sarei contento oppure Bah Ai 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 Oh 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 Ok Oh Oh Sontri Oh Erik Oh Oh E Fra Le per il suo posto che vuol dire che si sta trovando 3 ma come diventa trucco ma scuro di fatto what the fuck vabbè aveva fin mille vabbè aveva fin mille ahhhh nooo nooo non ho ancora il 6 wkong si ce l'ha fatta come si sia sai ce l'ha fatta ahahah gli sto buildando overconfidence guarda 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 sempre di più sempre di più ed ecco ed ecco stai vabbè la città per la posta la prima cosa posta randocchi la testa dei piedi e vai costa il bambino a 16 minuti ieri non solo farmare un po' chiudo farma abit cosa messi a farlo vado solo a livello random vabbè non facciamo così male a parte cosa che ne accento visto vado a far marchio sia noi che i compagni si non è che i derivi carcalato che urgo wow qualcuno ha fatto non importa ok uccidetelo per krishna aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa la blada stupra a ok 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 controllo allo che sta per tirati un pilar of shit in the face no no seguendo pantheon tutto è successo 3 da top che sta over push intorno e non tira pilastri forse non ce li ha e cosa sono tutti sparati ero un esclamativo aaaah è per morire ma c'è aaaaah vai aaaaah aaaaah vai krishna oh mio dio ma troppo male oh mio dio ma troppo male tu credi forse oh mio dio ma troppo male non so se si vede 6 gol ma tu solo ah non so se mi ha fatto un liste oh oh no 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 cosa sta succedendo? sta morendo e vincendo persa la casa si eh beh forse è una partita a casa si si sono morto ho così one shotta comunque se ho voluto e lo uccidevo ahi Mattia credo in te io faccio un danno del santo però adesso non faccio danno l'ho fatto solo meno di 0 mi curo non criccio stiamo cresciato gg non mi spart oh 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 eh gli fai furtato dai vuoi dire il albino io posso sono all'undicino se messi a livelli e li stai riprendendo io sono e tu sei una merda ferma un po' vabbè gli altri sono sotto me vai a farmi un po' lo stesso a. c'è sto fermando 38 farmi 38 si vabbè ma erai lì eh ma io ho fatto un doppio leap avanti perché sono fortissimo si l'ho fatto anch'io prima solo che quando abbiamo ucciso vlad eh ma quello è più difficile perché devi farlo su un minion che è quasi morto eh lo so è vero però io l'ho fatto il problema è che c'era vlad che dal lato mentre facendo il secondo lì mi ha trucciato o il primo non so quale dei due in realtà la mia visione come era quella su blast su blast su blast ma che si è posto per ecco 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 porto anche il porto anche la linea c'è x 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 è proprio un visivo sostenibile non c'è un altro so così benedì si è finita non si prende benedì si tratta stasera di un belare a per sempre vincere vinceremo sicuramente vincere vincere mi smaka fascisti non so come per il massimo io posso capire tu credi che non siamo al massimo in realtà in realtà siamo un canale nazifascio c'eri si hai loveli si avete usato la posta? copriamolo no ci sono ahahahahah stai avrezzati tutti gg si nice feed vlad trinda sta pushando top ha detto if we push top all the time we win quindi se io ci crede vedo perchè no ha una fan però deve pushar di più pushar di più più per trinda ecco adesso abbiamo fatto e non so qui pantheon nice feed vai mattia vedo in te oh E va bene, se ho fatto da Ace, ho fatto da tutto, quindi così ho fatto più, 3 G, un G quadriangolo, basta, senta. I miei tre ultimi ho deciso 3 Minioni, mi andavo a scappare da di sì, mi sono capito. Ah no, no non no. Manfえば funzionato, perché non gli sono corso addosso per cercare di uccidere lo prima e me l'uccidesse e sono rimasto vivo. Sono 1,7,7! Sono 9,6... I termini hanno aiutato qua il tiro iniziale. Davutamente no. Come cosa ha fatto? è un pg immortale mi sta attaccando la torre mi sta attaccando la torre oh mi sta attaccando la torre mi sta attaccando di me no 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 ciao sono Vlad ah porca troie scopo, hanno capito lo stasera di tu di coso ah si? strano brb brb abbiamo buttato tutti sul naso si 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 ho anche fatto l'ultimo di lui non so se c'è nel video ho fatto l'ultimo di lui in teamfight solo che mi ha tipo trasfusionati in ari non so non ho visto non mi ricordo non mi ricordo è una cosa brutta che vuole edisi buon buon bene c'è un pg mi sta attaccando la torre oh oh ma ci vogliono di me Bene, ho deciso Paz! Posso? Avevo risolto questi problemi Tommy! Esatto Dai, corri come le verrucche Corri tantissimo Corri come le verrucche Corri come le verrucche Non nemmeno esattamente lo che volevo dire Ciao Vi è arrivato un colpo di È morto Oddio, ma lo povero Panto Mi è buco Corri 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 Cosa è? Dove che vuoi vincere? Mmm Facciamo vincere Marapanta Ah, flash! Ah, benissimo! Flash! 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 AHH! Vieni qua! To puttana di merda, vieni qua! Cosa è successo? Nooo! Tristezza appalata! Che preferibile! Non ci farà tanti danni! Sto arrivando! Di morire per la torta! Eccomi ha ucciso random! GG! SHUTDOWN! In treno uccidiamo! E' uno buono! E' uno buono! Come on! Ah! Ah! Cosa? Non mi eravamo stupendo i miniori! E' non mi eravamo del tutto accorgendo! Io non ricordavo la miniorgia che andava a riuscire su! Lo più spell! Che più spell è fatto? Pilastro! Oh! L'hai ucciso il minioro, vero? No! Non potevo ucciderlo! Fai un culo taric di merda! Tu sei che non vuoi! Ho ucciso il minioro che era riusciato a mezzamorto prima! Oh oh! Ragazzi c'è cosa? No! Vai Krishna! Non hai messi a tuo momento! Sto a far lanciare un solo direi! Sì che? Oh oh Però è stato molto.. Molto di semplice Se avessi avuto una doppia avu invece che si avessi avuto un secondo di... Di cosi.. Di cosi.. No! Non ci toccare l'auto attack! E me! Moriva! Non l'ho colpita con l'auto attack! No, 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 ti sono gladio Che gladio No, che non abbiamo potuto perdere Era vinta in partenza No No